e abbiamo sentito convergere in giambellino che è perfetta per entrare nel mood di quello che poteva essere un universo diabolic perché adesso parliamo del film dei manetti bros manetti bros che non sono i mainetti neanche perché è uno mainetti esatto appunto avrà un fratello forse una sorella forse chissà forse figlio unico non sono preparato su questa cosa ma sicuramente non sono la stessa persona lo stesso duo il sentiamo terremo i calibro 35 in sottofondo anche perché ci aiutano anche a fare un po di legame con il soggetto della discussione e quello che potrebbe essere il punto l'universo diabolic perché diabolic come dicevamo prima è una pubblicazione attualmente in corso trovate in edicola almeno tre uscite tre collane la storina pubblica è una casa editrice fondata e realizzata creata come il personaggio da angela e luciana giussani ricordo che il la creazione di nel personaggio di diabolic arriva attraverso diverse diversi studi e non fa più di tanto non stupisce più di tanto se se si ha un po l'occhio largo diciamo che la prima delle prime patentate con anzi prime donne con la patente di volo sia stata la creatrice di un personaggio così rivoluzionario non per dal punto di vista dello scandalo che all'inizio delle 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 uscire le prime uscire di diabolic faceva appunto scandalo perché c'era questo personaggio cattivo che uccideva c'erano delle figure sensuali era senza limiti di completamente cattivo a questo proposito appunto potrebbe essere sicuramente avuto dei problemi per essere visto come un'esaltazione del crimine no del fuori legge che è un po il grande classico no quando ci sono i cattivi sullo schermo e tutti pensano a qualcuno vorrà imitarlo ma vai a fare quello che fa diabolic e soprattutto a vestirti di nero con la tutina nera col caldo col freddo con il gelo con la panza sì sì certo però anche con le intemperie e il mondo esterno fuori per introdurlo l'abbiamo introdotto con deep down di mike patton anzi del progetto di mike patton mondo cane dove lui appunto e portava l'italia nel suo mondo e portava e si portava anche nel suo nella sua visione d'italia l'italiano più bello prima di pavarotti and friends deep down faceva parte della colonna sonora o era all'interno del film di mario bava l'unico e precedente film di su diabolic del 68 mario bava è un un regista assolutamente iconico non è fantaghiro dopo è fantaghiro sì sì aspettate che controllo occhio perché potrebbe essere lamberto lamberto infatti però il nel 68 un film come quello di di bava su diabolic è stato veramente molto importante per diversi punti di vista per quanto riguarda questo film del 2021 e dei manetti bros è molto utile anche per fare non non ha senso fare confronti anche perché molto diverso la recensione di questo lamberto esatto era lamberto e il fratello va bene il appunto sempre di fratelli si parla perché manetti bros hanno fatto un film molto bello ma questa è un difetto perché mai mi sarei aspettato di dire di fare una stroncatura di un film magari a cui tenevo moltissimo però dire che un film è bello e quindi non va bene è il motivo per cui vi potrei agganciare in questo questo discorso perché effettivamente diabolic dei manetti bros è un mistero una scatola chiusa da scoprire ci sono alcune cose che non quadrano assolutamente e una di queste è il film o meglio vi spiego il il tutto il film è veramente molto bello ad una cura del della scenografia incredibile una corona sonora veramente sopraffina loro tre e valero mastandrea ginko e stavo dicendo eva leone invece mai miriam leone eva kent e luca marinelli diabolic sono veramente funzionano veramente tanto specialmente se appunto si porta la mente al al fumetto io sono forse uno dei pochissimi miei coetanei di che legge ha letto da tenerissima età diabolic è stato forse uno dei pochissimi passaggi di testimone padre figlio anche questo la dice molto lunga sulla mia famiglia ma questo poco importa però ringrazio moltissimo mio papà che alle isole tremidi mi regalò anzi mi passò un un volumetto rilegato mondadori dove c'erano 4 5 storie di diabolic un po come introduzione una cosa del genere può essere questo questo film perché appunto arriva nel 2021 moltissimi vogliono andare al cinema ma soprattutto moltissimi ragazzi giovani meno giovani hanno una vaga idea di chi è diabolic magari è entrato sono attratti dalla figura anche banalmente della locandina e oppure è attratti dalla storia dai personaggi dagli attori questo è un ottimo modo per entrare nell'universo di diabolic nelle storie diabolic sono tutti volumetti e storie abbastanza autoconclusive non ci sono grandissime linee narrative se non qualcosa di di segnalato di corposo ed è la storia sono molto molto puntuali non a caso all'inizio questo era un racconto proprio per i viaggi mobile in mobilità è un perfetto una perfetta lettura metropolitana diabolic è stato anche costruito la forma del dell'albo per stare dentro la tasca dell'operaio degli anni 70 quindi non può essere una una montagna insormontabile come adesso inizio a vedere doctor who ma dalla prima puntata quindi diabolic si può masticare assaggiare e poi mandare via se non se non ti non ti piace il discorso l'atmosfera oppure approfondirne molto questo è un pregio del film cioè da qui si può entrare nel si può andare in fumetteria o in edicola e vedere quello che è effettivamente diabolic però quello che vediamo in due due ore e tredici veramente troppe il nel film è un una mix di due storie importanti dove diabolic incontra eva kent ma soprattutto ginko e ovviamente insegue e diabolic e non non facciamo spoiler ginko l'ispettore ginko del di clerville che è la lo stato fittizio insieme a tutta la il resto della geografia che angela e luciana giussani hanno creato il a questo proposito io vi farei sentire subito il il discorso comunque un intervento di mario gomboli che è l'attuale editore di della storina a storina composta da otto persone che fanno solo diabolic e e ha rilevato comunque ha ereditato da angela e luciana lui ha lavorato con loro come sceneggiatore e il il non il marchio ma proprio tutta la la storina la casa di produzione la domanda è per quale motivo arriva adesso questo diabolic e soprattutto cosa c'è stato prima per quanto riguarda le proposte di fare il film di diabolic e questo è la risposta vediamo un po se parte si una frase ha detto quando sono venuti in redazione a proporre l'idea ha detto che non volevano fare un film su diabolic ma il film di diabolic e ho capito che forse eravamo costato tutto sì è vero che giussani prima e io negli ultimi vent'anni le proposte ne abbiamo vinte tante ne abbiamo lette tante e le abbiamo scantate tutte essenzialmente perché c'era una volontà di riportare diabolic negli schemi di volta in volta si voleva farlo diventare zoro o il proficere della notte o un seriottino e invece diabolic la forza di noi è proprio essere fuori dagli schemi essere un personaggio come non ci erano prima e gli imitatori e questo era mario gomboli che simpaticone alla fine beh sì effettivamente molto molto onesto come come dichiarazione anche perché il discorso c'è stato anche una versione animata un diabolic che è arrivato intorno agli anni 2000 forse per addirittura un anniversario ma appunto soltanto il film del 68 di mario bava è una trasposizione quindi le criticità sono sostanzialmente tutte nella parte della realizzazione questo film come dicevamo è un problema ha avuto diversi problemi perché era pronto nel 2019 pronto di nuovo per andare in sugli schermi nel natale del 2020 ma mi sa che in mezzo c'è stato tipo una pandemia mondiale vabbè insomma sono ci quanto hanno rosicato di queste cose sicuramente ne ne avranno questi questi anni questi step questi stop soprattutto hanno fatto sì che la promozione del attraverso gli attori è arrivata un po come è stata fatta da fazio che con tutti i limiti il tra l'altro ha spoilerato tipo la scena finale questo è una caratteristica ormai della televisione del racconto televisivo ma vabbè si era anche divertito bravo fabio il invece gli attori stanno ripercorrendo un'esperienza di tre anni fa perché prima lo devi girare stanno facendo già il secondo e il terzo film li stanno girando ma in area di conferenza stampa c'era un'area molto strana molto non dico tesa perché il la prima domanda era già si parà la serie su diabolic e ovviamente i manetti hanno detto sì intanto facciamo questa vediamo se come va però probabilmente visto il girato vista la quantità di di materiale di appunto anche il minutaggio l'idea viene che forse quello che vediamo è una montaggio di materiale creato per una serie perché è veramente molto corposo il il proprio un montaggio troppo lasco veramente molto lento stiamo parlando di un film d'azione cioè proprio del giallo ti trova d'accordo questa frase che ho trovato fra recensioni online che dice i manetti sono completamente avulsi dalla sensibilità necessaria per far funzionare un progetto come questo la sensibilità che due sorelle borghesi altolocate come le giussani hanno infuso in un personaggio una storia algidi a volta luciferini ma circondati da un contesto borghese nobiliare e dararoso lui praticamente fa un riferimento a quella che è la normale cornice dei manetti secondo te ha senso questo questa cosa secondo me no ed è un pregio dei del progetto perché in alcuni part in alcune parti su questo bisogna dare atto a tutti gli attori anche alcuni comprimari sono molto 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 buoni il il riferimento con l'originale l'archetipo fumettistico è reso molto bene ma infatti ma lui parla proprio di sensibilità nel raccontarlo da parte solo della regia non lo sta parlando di perché appunto su quel punto di vista anche si sbottonano molto i manetti a volte indugiano anche su citazioni qualche quasi scocchiane il banalmente l'acconciatura di eva è molto simile alle bionde di hitchcock e quindi lì si va veramente in verso un un certo tipo di cinema ma tutto ciò non non giustifica il risultato finito che è veramente troppo lasco è proprio si scioglie davanti agli occhi dello spettatore per la prima ora perché poi il resto l'ora è 13 seguente funziona anche piuttosto bene quindi è veramente un gran peccato la necessità era forse di appunto c'erano tante linee orizzontali tante storie orizzontali di tanti personaggi che pure lì di solito i manetti vanno spesso fanno dell'overacting cioè non fanno attoriale fanno recitare troppo le persone e gli attori mentre qui evidentemente la qualità degli attori era comunque molto ben resa oppure è stata modificata anche dalla preparazione il person dei personaggi e a questo proposito e vorrei farvi sentire cosa di cosa dicono luca marinelli e miriam leone dei personaggi non sono riuscito a registrare valerio mastrandea che diceva proprio che lui il suo ginko che tra l'altro è fantastico e ma tra l'altro lui c'ha proprio la faccia ma è veramente veramente bravo nel suo ginko e lui ha detto io mi sono preparato non non pensando non leggendo nulla di diabolic pensa lo leggevo quando ero piccolo ma ti favo per diabolic quindi io ho un'immagine mia e ho cercato di costruirla attraverso appunto il lavoro di quello che ricordavo fosse ginko e il risultato è veramente è il migliore in campo se dovessimo mettere una maglia come su una partita di calcio il migliore in campo è sicuramente mastrandrea e luca marinelli sappiamo che non seguirà il progetto quindi i prossimi due film saranno interpretati da un'altra persona un altro corpo tra l'altro molto diverso un altro attore molto diverso però allora allo stato attuale ecco quello che ha detto marinelli sulla costruzione su cosa ha letto su come si è preparato per fare diabolica a seguire anche miriam leone raccogliere tutte le informazioni possibili quindi ciparsi di tutti i fumetti che ci sono delle centinaia di fumetti e però creare una propria idea io ricordo il momento del provino dove ho incontrato loro io sono arrivato nei miei pensieri e loro avevano la loro idea di diabolica io la mia in alcune cose siamo andati assieme e abbiamo abbiamo creato il personaggio io mi sono ispiata ad esorelli giustani che sono e a loro dedicato tutto il mio lavoro a questo film sono state le creatrici di questo momento poi magari mario bomboli ne parlerà più approfonditamente che hanno creato questa questa donna che non è al servizio di nessun uomo ma che è un pianeta non è un satellite di nuovo e insieme sono due universi sono due facce della stessa medaglia sono il bianco e il nero la luce e l'ombra come uno in e uno iaglio e quindi ho letto molto delle loro vita mi ha affascinato sono entrata in questo vortice in cui le sorelle giustani sono state sul set con me mi hanno accompagnato nella nella creazione di questa eva oltre ad accompagnarmi naturalmente i manetti che ringrazio di tutto cuore per avermi fatto interpretare un personaggio così bello così iconico che non ha nulla da invidere al personaggio maschile perché vi dico spesso mi arrivano sceneggiature dove io dico bello però vorrei fare personaggio maschile mi piace di più quello invece no stavolta i personaggi sono pari sono due forze che si riconoscono che si attraggono e poi il funetto numero tre naturalmente che è quello da cui da cui è tratto il film è altro materiale random oltre alla backstory di eva e si fa riferimento al terzo al terzo albo l'arresto di diabolic che tra l'altro strano iniziare una storia nuova e altre fare anche l'arresto di abolic questo è anche una particolarità di tutto il concetto di di racconto delle giustani vi consiglio caldamente di approfondire moltissimo queste due figure interessante la riflessione che fa sui personaggi molto e molto vera questo è un altro pregio del film perché effettivamente è molto raro vedere il vedere una figura un personaggio femminile che appunto non è subordinato ma anche banalmente debole cioè debole proprio a livello di caratterizzazione no cioè a volte quando quando si tratta di alcuni alcuni film dove c'è un protagonista maschile le donne sono automaticamente cioè un protagonista per questioni di trama banalmente le donne diventano devono essere devono avere un ruolo il rapporto a cioè sono il riferimento a invece insomma lei sottolinea che le è piaciuto questa parità e tra l'altro c'è Gianni che scrive una cosa interessante dice mi auguro che abbia un mega successo internazionale in modo da iniziare un filone di film hollywoodiani sui fumetti neri anni 60 e ne cita criminal satanic criminal satanic io ne so tantissimo vedrai bene emmy adams nel ruolo di marley bannister che non so chi sia chi è marley bannister non lo so però effettivamente quel rischio ne sanno tanto più di noi è una cosa molto 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 sicura di questa di questa radio una sicurezza vera e propria il quella quel rischio cioè quella tentativo di essere mangiati dalla da hollywood ha fatto e c'è già stato pensiamo al di land dog con brandon russo se non sbaglio l'ex superman un risultato veramente poco convincente anche perché c'è stata poi la versione italiana o comunque il nostro occhio e la anche una certa sicurezza con di di maneggiare questo nel maneggiare questi questi testi regala un valore aggiunto al progetto sia grande sia piccolo ovviamente se esce ad hollywood a una circuitazione ma no perché altro a livello editoriale a livello di 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 diritti sono tutti soldi che giustamente entrano dal punto di vista insomma nell'editoria italiana dovrei vorrei a proposito della della figura di di eva vorrei parlare di più anzi applicare il test di peck bell peck dell anzi che appunto valuta l'impatto dei personaggi femminili nelle trame in tutto c'è una regola aurea che magari appunto in seguito magari con rivedendolo diabolic sarebbe interessante vedere sicuramente la figura di eva il personaggio di eva di miriam leone con all'interno del film dei manetti bros è sicuramente un personaggio molto interessante appunto da da studiare però il film e qui chiudiamo perché stiamo andando molto sto andando lunghissimo anche perché ci tengo particolarmente il film ha questo difetto di essere molto sciolto troppo troppo lasco nelle nell'azione l'azione stessa è stato hanno scelto di non raffigurare non raffigurarla splatter diabolic non si fa nessunissimo problema di lanciare coltelli e sgozzare o comunque uccidere piantare il coltello nella schiena di chi che sia sostanzialmente gli si paria gli si frapponga tra l'obiettivo però il la resa del nel film è solamente grafica non c'è sangue se non in quando è proprio ovvio e necessario per raccontare l'azione list la stessa azione la stessa velocità con le macchine si è parlato tantissimo troppo secondo me di della jaguar comunque dell'effetto nostalgia che vedere quelle macchine suscita nello spettatore va mi sembra mi risulta anche piuttosto svilente in confronto appunto agli attori al lavoro appunto la scenografia e tutto il comparto della preparazione nel tutto il diegetico ora uso un termine che mi scevola tra le mani è veramente molto molto buono il problema probabilmente c'è stato in in post produzione in nel mondo nel montaggio oppure sei quando quando rivedi il tema lo rivedi talmente tante volte che magari quella col senza h quel anno ti sfuggono ti sfuggono non li vedi e magari dopo che ci hai lavorato tre anni due anni o troppi mesi o troppo male ci voleva una persona che proprio era nuda completamente all'oscuro magari appunto tagliuzzava oppure ci sono altri motivi che ci sfuggono anche questi tra le mani insomma il prodotto finale è un lascia proprio l'amaro in bocca è un peccato un gran peccato speriamo che con i prossimi due film riescano a sistemare correggere aggiustare avvitare i bulloni si è un gran peccato è un gran peccato lui appunto come ho raccontato ha passato la conferenza stampa in veramente sembrava quasi triste molto molto dispiaciuto pure quella potrebbe essere una storia della storia un broso di suo da sempre un po la sensazione di tormento però allo stato attuale ha fatto colazione perché era mezzo giorno chissà il è al cinema sarà al cinema da tra pochi giorni farà parte della carrellata di grandissimi film che come le palline sull'albero correderanno questo natale nel 2021 il paolo del brocco diceva mi raccomando quando andate al cinema ricordatevi che questo è un film italiano paolo con tutto il bene però il io vorrei vedere un film bello cioè si sa che il cinema e i biglietti si prendono si comprano e poi scopri che il film non ti è piaciuto però effettivamente già con le statistiche alle mano un italiano vede due film all'anno e uno lo vede io preferisco che facciano un tentativo su un italiano piuttosto che fare un tentativo casuale su uno straniero a questo punto forse questo anche un po intendeva però non lo metterei dal punto di vista nazionalistico stasera vedrò spider man far from home vediamo io non avrò nessunissimo problema anche perché stiamo parlando di due cine comics ovviamente sulla carta sono appunto due personaggi dei fumetti che fanno su cui si fanno dei film uno ha una storia anche una dei muscoli molto molto forti l'altro meno però a questo punto le armi sono pari dall'altra parte ci sono tantissimi altri progetti io giovanni villani vi consiglierei di andare a vedere diabolic però aspettatevi di cioè preparatevi ad essere inondati da i manetti bros che sono innamorati del loro film e un po si fanno sanno che è molto bello è un film che si guarda allo specchio ecco facciamola mettiamola così fa strano però che la promozione sia stata così imponente adesso su questo film e per freaks out un po così fa un altro dispiacere al dispiacere insomma abbiamo fatto 26 minuti su diabolic il film è molto è bello molto bello però non mi è piaciuto quindi è un film con grandi problemi ma mi piacerebbe appunto gabriele gnola giustamente aveva chiesto un'intervista a luca marinelli per saperne di più magari ce ne racconterà nella prossima puntata di cellulite celluloide questa è la recensione di letture metropolitane di diabolic e quest'altro è forse l'altro esperimento l'altro tentativo di portare diabolic sullo schermo vediamo un po' se te lo ricordi il motivo no questa è mirame leone e questi sono il motivo per ti dicevo ciao 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 ciao